Il piano di Luca De Bar con Giovanni Andrea Zanonna al violino sul palco del teatro Petrarca per il secondo capitolo dell'Arezzo Youth Music Festival. E' infatti proseguito così con un duo d'eccezione la rassegna di musica classica pensata per i più giovani. Il festival è nato con l'obiettivo di attrarre ragazzi del territorio attraverso la bellezza della musica e proporre Arezzo come punto d'incontro musicale per i migliori giovani musicisti del panorama internazionale. Il programma della serata è stato diviso in due parti, la prima con la proposta di alcuni brani solo per pianoforte da Mozart a Chopin, mentre la seconda parte è stata dedicata alla celeberrima sonata per violino e pianoforte di Franca, sonata che si è imposta per proprio merito nella musica cameristica francese come la pagina meglio riuscita del suo genere, tanto è da essere stata definita un lavoro cartesiano per la limpidezza strutturale e l'infallibile equilibrio che governano il dialogo tra i due strumenti. Il programma della serata è stato diviso in due strumenti.